Uno, due e tre Quanto non dovresti riuscire a comandarla? Sì, no 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 Girare gira È che c'è un po' di... Ha una sicurezza, quando non è più collimato si blocca Sì, no Ho fatto la sua... Ho fatto la sua... Ho fatto la sua spontanea 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 Ho fatto la sua spontanea